La mattina di domenica, 29 maggio, da Pescara e per le strade dell'entroterra pescarese, il Moto Incontro 2022 Città di Pescara, manifestazione motoristica valida per il torneo FMI. Dopo un periodo nero di lockdown, finalmente Pescara si può muovere, stiamo riuscendo a muoverci come prima e quindi questa è un'iniziativa anche per sensibilizzare che Pescara c'è, Pescara vuole vivere insieme ai pescaresi. Il Moto Incontro è una manifestazione dove accogliamo i motociclisti provenienti da tutta Italia ma in questo caso la Valenza è a livello regionale per quanto riguarda le manifestazioni in calendario della federazione e il Moto Club Pescara è una di queste associazioni titolate a fare e a organizzare le manifestazioni mototuristiche abbracciando anche il settore d'epoca che è quella anche importante. L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale di Pescara ed è sostenuto dall'Istituto Donorione. Per i ragazzi del Donorione quindi diventa anche un'occasione di socializzazione? Ma certamente questo è un importante momento di socializzazione per loro perché tenga conto che da quando è iniziata la pandemia nel marzo 2020 i nostri ragazzi escono molto meno rispetto a prima e quindi hanno pochissime occasioni in cui poter vivere una socialità più piena rispetto a quello che vivono tutti i giorni nel nostro istituto. Ma anche per loro poi è importante il sogno, molti dei nostri operatori sono motociclisti, la moto rappresenta epoca per tutti il sogno di una vita libera, piena, felice e quindi anche per loro è importante vedere tutte queste moto, vedere tutto questo movimento.